buongiorno sono il dottor Giuliano Bezzi dietista del centro medico sant'agostino oggi parleremo di cosa e quanto mangiare durante la gravidanza molte donne mi chiedono quanto possibile ingrassare durante la gravidanza la risposta è semplice l'aumento ci deve essere fisiologico non bisogna superare i 12 13 chili per una persona che normo peso ovvio che un aumento maggiore è dato da un'alimentazione non troppo controllata perciò è necessario seguire una dieta corretta sana e bilanciata in maniera tale da non eccedere coi chili un'altra domanda che capita spesso è quanto bisogna mangiare in più rispetto al normale è ovvio che bisogna vedere da persona a persona c'è chi parte da uno stato di normo peso e perciò avrà bisogno di introdurre 150 200 calorie in più nella sua alimentazione mentre chi parte in uno stato di sottopeso avrà bisogno un'interazione maggiore di calorie parliamo di 400 500 calorie al contrario chi parte in uno stato invece di sovrappeso o d'obesità l'introduzione maggiore dovrebbe essere intorno alle 100 150 calorie in maniera tale da usare le riserve di grasso per poter accrescere il feto quanto sono 150 200 calorie sono all'incirca un panino e un paio di frutti in più durante la giornata in un'alimentazione già normocalorica perciò puntate più alla qualità degli alimenti e non pensate a quanto mangiare è meglio mangiare il giusto ma sano perciò non attaccatevi a schifezze merendine snack troppo dolci o troppo salati perché questo vi farebbe ingrassare e potrebbe nuocere la salute del vostro bambino per quanto riguarda le voglie via libera ovvero potete anche togliervi qualche voglia ma senza eccedere perciò se vi capita di mangiare un dolcetto in più perché ne avete voglia fatelo tanto avete di base un'alimentazione già corretta in conclusione non è necessario mangiare per due questa falsa tradizione che esiste ormai da anni l'importante è mangiare in modo sano corretto e bilanciato e ogni tanto togliersi qualche voglia